Siamo con Francesco Bigi, tecnico del Val Duggia, vincente Quasantià. Mister, scontro salvezza, bisogna portare a casa i tre punti, alla fine avete fatto proprio tutto quello che bisognava fare. Vittoria mai in discussione direi. Sì, siamo riusciti a... abbiamo impostato la partita in questa maniera, cioè a mio avviso in questi scontri chiamiamoli salvezza in questo momento, l'importante è non fare errori perché potrebbero precludere poi tutto il resto della partita. Quindi abbiamo cercato di tenere sempre la palla nella loro metà campo, anche con dei lanci lunghi, snaturando un po' il nostro gioco e da una di queste occasioni siamo riusciti a segnare e mettere la partita nella direzione giusta. E poi credo che siamo stati bravi a rischiare il meno possibile. Ecco, nella bagarre che giustamente loro hanno cercato di creare poi nel secondo tempo per rimediare. Ecco, certo. Oltretutto voi avevate chiuso il 2021 con due pareggi importanti, con Piedi-Munera e Bule Bellinzago, quindi era anche molto importante dare continuità a questi risultati. Io ero molto dispiaciuto di non aver giocato le ultime due, che erano questa, e poi domenica con la Chiavazzese a fine anno perché stavamo benissimo. E abbiamo ricominciato, a dire la verità, con Fuori Sardo, Mancini e Antonioli, che per noi sono tre titolari importantissimi e quindi in difficoltà, però per fortuna l'organizzazione di gioco ci ha permesso di supplire a queste mancanze. L'ultima battuta su Conchedon, un tuo fedelissimo, l'hai venuto già a Dormelletto qualche anno fa, avevate fatto ad Arona. Lo fatti sentire a Rona. Ecco. Eh, vabbè, un ragazzo. Diciamo, quando chiamato in causa risponde sempre presente per te. Conché, poi adesso che è anche maturato, è un giocatore completo, che sa difenderci, sa attaccare, sa quando è il momento di far male, insomma, è un giocatore importante. La ragazzina era molto, difficile da contenere per la sua esuberanza, adesso che è maturato è perfetto, diciamo. Certo. Grazie, mister, buon proseguimento. Grazie a voi.